Giorno 6, martedì al Teatro Costa Bianca, un appuntamento cui Acquarinto lo sta organizzando e ci tiene particolarmente. Ne parliamo con Mary Fiore che è l'anima pulsante dell'Acquarinto di Real Monte. Allora sì, martedì è un giorno di festa per tutti i progetti Sprar perché proponiamo una bellissima iniziativa che è il musical di camicette bianche ma non solo perché vogliamo innanzitutto fare proprio la festa dell'integrazione perché attraverso i tirocini formativi, le borse lavoro noi integriamo i nostri ragazzi e proprio martedì prima del musical daremo una targa di riconoscimento a tutte le aziende non solo di Real Monte ma anche di tutti i paesi dove abbiamo i progetti, proprio per ringraziare dell'impegno profuso nei confronti dei nostri ragazzi e proprio per l'integrazione lavorativa in questo caso perché dopo i tirocini questa azienda non sono dei nostri ragazzi. Quindi è un modo per veramente, oltre a ringraziare ma soprattutto per fare capire che questi ragazzi sono qui per dare veramente al nostro territorio il loro apporto, il loro talento e questo ci fa molto piacere. Quindi ricordiamo l'appuntamento? Allora l'appuntamento è martedì 6 e alle 21 ci sarà la premiazione delle aziende, subito dopo ci sarà il musical Camicette Bianche con la regia di Marco Savatteri.